e dal 2012 invece si assiste ad un veloce e anche drammatico calo delle prestazioni scolastiche. Proprio in quei paesi dove c'è stata una maggiore digitalizzazione, un maggiore investimento in scuola digitale, in questo senso parlo di introduzione di lavagne luminose, di sostituzione di libri, di penne, di matite, di quaderni con i tablet, si assiste al maggior tracollo delle prestazioni scolastiche. C'è un documento del Parlamento europeo del 2010, si parla del mercato unico digitale, sanità a distanza, smart city e in una parte di questo documento si afferma testualmente che l'alfabetizzazione digitale deve iniziare a partire dall'età prescolare.